Buongiorno a tutti, io sono Werner Peratoner, qua sulla Soslong mi occupo di tutta la parte alta qua dalla partenza fino al Sockerz e quest'anno sta andando tutto molto bene fino adesso anche perché abbiamo in dotazione questo magnifico attrezzo che va molto bene, tanta potenza e quello che mi ha impressionato di più è la durata, le batterie, è veramente un grande aiuto per noi che lavoriamo qua in pista. Allora salve, buongiorno, sono Giorgio Calegari responsabile dalla partenza fino al Sockerz della gara di Coppa del Mondo in Val Gardena noi siamo responsabili, io e il mio gruppo di sette elementi della sicurezza della pista a parte i paletti delle direzioni ma tutta la sicurezza, cioè mettiamo circa 300 reti B sulla pista vale a dire facciamo 5.000 buchi, insomma lavoriamo tutto il giorno con i trapani Bosch adesso io sono qua da più di 20 anni a lavorare su questa pista ma un trapano del genere non l'abbiamo mai avuto che è una cosa fenomenale, veramente. da quando usiamo questi trapani Bosch abbiamo una facilità, riusciamo a mettere molte più reti perché lavorano bene e i miei compagni di lavoro, colleghi, si divertono, non c'è più da far fatica, vanno da Dio, bisogna dire la verità. grazie a tutti grazie a tutti